oggi un video non potevano farlo oggi è oggi una bella vittoria oggi una bella sensazione a pasquetta si sta chiusi a pasquetta si sta chiusi non potete venire a fa la spesa ve ne dovete sta a casa non dovete rompere le palle pure noi staremo a casa con la nostra famiglia a pasquetta i supermercati sono chiusi fatevenne una ragione i dipendenti staranno a casa io voglio voglio ringraziare tutti quelli che ci hanno aiutato in questo voglio voglio ringraziare tutti voi che continuate ad aiutarci condividendo video informazioni locandine anche stavolta sicuramente non è stato un video a fa cambia idea sicuramente non sono state 5.000 condivisioni a fa a fa chiuda a pasquetta i supermercati però diciamo che sta cosa sembra che porta bene perché ogni volta che alziamo un po di casino fortunatamente qualcosa succede e non è lo ribadisco per i ben pensanti non è perché io faccio i video o perché gli amici condividono i video diciamo che ormai è diventata una forma di scaramazia no non non ci costa niente quindi continuiamo così vediamo e speriamo soprattutto definì definì presto sta storia questo questo maledetto virus comunque faccio breve oggi oggi non c'è non c'è tanto da chiacchierare oggi c'è da essere contenti vi ringrazio a tutti quanti mi auguro e spero veramente che lo facciamo tutti noi dipendenti dei supermercati a pasquetta magari prima di metterci a mangiare per chi crede per chi non crede fa lo stesso pregate non pregate non interessa magari approfittiamo proprio in quel momento per dedicare un pensiero a tutti i colleghi che invece la vita già l'hanno persa all'interno dei supermercati a tutti quei colleghi che sono contagiati stanno ricoverati e nemmeno possono vedere i familiari durante durante le feste allora auguriamo di ritornare presto a casa che tutto si concluda bene mentre mandiamo un abbraccio un pensiero una preghiera a tutte quelle famiglie che invece il giorno di pasquetta staranno a piangere il loro caro che non stava nell'esercito che non stava dentro un ospedale ma che lavorava dentro al supermercato grazie a tutti quanti l'unica cosa che mi dispiace e mi dispiace fa polemica però ogni tanto ci vuole pure quella è che soffriranno di questa chiusura anche quelli che per l'ennesima volta potevano ma non hanno avuto il coraggio di dire di no anche tutti quei dipendenti che ogni volta non hanno il coraggio di dire di no anche se rientrano i loro diritti e non rischiano nulla abbiate il coraggio ogni tanto di dire di no e anche se c'è un minimo rischio di qualche cosa un giorno nella vita provate a averci le palle guardate che è una bella sensazione ciao a tutti grazie a pasquetta tutti a casa